buonasera buonasera a tutti eccomi con voi anche stasera e ci sarò anche nei prossimi giorni per erudirvi in merito a quello che può succedere dal punto di vista meteorologico per quelle che sono le mie conoscenze e competenze da sionato come voi che però cerca di produrre una rubrica che ripeto è quella che avrei voluto qualcuno che accesse a suo tempo per me iscrivetevi per questo motivo assolutamente al canale youtube cliccate sulla campanellina se volete il bonus grazie ma adesso non perdo tempo e vi introduco quello che può accadere nei prossimi giorni tramite questa bellissima carta vedete guardate blocco e discesa fredda con mal tempo non stiamo parlando di gelo siamo ormai a marzo che può che può anche accadere in molti hanno ricordato il marzo dell'ottantasette che io ho vissuto perché essendo di una certa età e si faceva molto freddo molto freddo eh meno precipitazioni sul versante di renico ma nevicò fino alla costa per molti per ripetutamente in più occasioni sul versante adriatico insomma qui sono il mese di marzo può dare veramente notevoli fenomenologie fredde e in particolari condizioni vediamo però quello che ci attende adesso adesso eh il tempo è migliorato dopo qualche rovescio temporale anche nevicate in appennino centro meridionale con venti anche piuttosto forti ora sta migliorando avremo eh un aumento delle temperature delle belle giornate soprattutto al centro sud mentre al nord al nord domenica non è che arriveranno chissà quali precipitazioni ma il tempo si guasterà sarà coperto eh comunque con una velocità diffusa e con qualche pioggia anche sul Golfo Ligure e in genere al nord ovest nulla di trascendentale ma potrebbe davvero rovinare la diciamo la la domenica dal punto di vista meteorologico mentre eh la scorsa domenica io li ho beneficiato di una giornata davvero splenta eh eh sono i le altalenanze della primavera ciò le alternanze anzi chiamiamole meteorologiche della primavera e perché eh siamo in un periodo in cui gli scambi meridiani sono assolutamente possibili in quanto si inizia a riscaldare la fascia subtropicale quella sud dell'Italia mentre il freddo ancora permane in artico perché comunque eh a parte la latitudine anche un mare eh sembra reghiacciato e quindi conserva il freddo per un periodo più costo lungo mentre le masse continentali ora si stanno riscaldando comprese anche quelle che d'inverno sono molto fredde e si iniziano a riscaldare ora ma non mi voglio far perdere altro tempo vi condivido lo schermo ma prima vi voglio dire che a fianco di questi che sono eh diciamo eh video estesi dove eh con calma e vi espongo un po' tutto fiancherò degli shorts delle pillole di un minuto e mezzo due in cui rapidamente vi dico le stesse cose ma proprio buttate lì e lo farò vorrei farlo anche su tanti argomenti perché secondo me eh il mondo anche del web eh ha questa eh peculiarità che vuole l'informazione subito da una parte danneggiano quello che è l'informazione e la cultura di base ma eh sono così fruibili in poco tempo e allora dai finalmente vi mostro la carta odierna eccola qua guardate come il tempo si è migliorato nelle regioni italiane come soprattutto ci sia un moto orario delle nubi che fa con asse diciamo grosso modo sul golfo del leone a ovest dell'italia e che quindi indica che c'è in affermazione un campo di alte pressioni che quindi il tempo migliorerà ma proprio questa perturbazione che vedete qui ora tra sul golfo di Biscaglia sulla Spagna e Portogallo e darà fastidio però proprio la giornata di domenica nelle regioni del nord nord ovest soprattutto con qualche pioggia ripeto potrebbe arrivare pioggia ed eccola qua vedete questa bella campana arancione quella che si sposta verso di noi e che ci darà il bel tempo domani dopo domani mentre domenica guardate che succede questa non la vedete questo un po più chiaro indicano delle correnti meridionali che ci saranno al nord alto tirreno tutto il nord e che quindi potrebbero guassare un po il tempo niente di trascendentale ma le gite domenicale sarebbero compromesse per questo motivo ed ecco qua andiamo avanti guardate che succede dopo dopo non succede molto in realtà c'è una sorta di limbo un po qualche piccolo guasso del tempo tempo in prevalenza in prevalenza buono con temperature generalmente sopra media questo fino a il 25 26 marzo vedete poi qualcosa cambia guardate come arriva arrivi una saccatura eccola qua quindi alla fine di marzo per adesso sembra che le cose possono cambiare alta pressione in atlantico bassa pressione qui nel mediterraneo e soprattutto il modello europeo che generalmente è il più difficile che sta uscendo ora che ci accontenta molto più difficilmente che è più affidabile ci conferma quanto detto finora che dopo questo periodo che avete visto con bel tempo eccola qua una saccatura nuova che passa dal 25 al 26 di marzo quindi il tempo potrebbe peggiorare proprio per quel periodo ecco già vi mostro di nuovo la mia bella faccia insomma per dirvi che diciamo che il tempo sarà quello tipico di marzo con alternazze come vi ho detto che comunque andando ponendo dei focus le temperature aumenteranno nei prossimi giorni quindi da qui ai prossimi sette dieci giorni globalmente saremo sopra media termico con però delle numerosi numerosi di passaggio spesso irregolare sfrangiata meno frequente al centro sud più frequente al nord con poi un'evoluzione che è questa che vedete alle mie spalle dove potrebbe giungere poi la è un guasto più consistente alla fine del mese con piogge temporali chissà anche qualche nevicate montagne quindi ancora sappiate che fine marzo inizio aprile ci può dare molte sorprese l'anno scorso a inizio aprile nevicò a 200 300 metri di quota in l'italia centrale centrale alle porte di roma per chi se la ricorda quindi ancora possiamo avere di tutto e di più un abbraccio a tutti non perdete i prossimi aggiornamenti ce ne saranno tanti ciao ciao a presto ciao ciao